buonasera a tutti amici di vanilla spero state bene stasera siamo qui per parlare forse il titolo vi ha un po tratto in inganno ma non siamo qui per parlare di mussolini sono avrò quattro articoli su mussolini non solo uno ma sono qui per parlare non del personaggio storico in sé nel senso che non voglio far polemica ma sono qui per parlare di quella che è la percezione del politico rispetto a quelle che invece sono gli ideali che propugna ecco quindi come si pone di fronte al pubblico e poi dopo in realtà come è realmente lui come persona nel privato ho preso benito mussolini perché avevo questi quattro articoli qui che mi piacevano su vanilla dunque due li ho scritti io sono abbastanza brevi comunque insomma due sono miei uno sono uno è di iris mosch e l'altra di analisa lo monaco quattro articoli che ci raccontano un po la storia diversa del dittatore italiano rispetto a quella che poi in realtà dagli anni trenta in poi quando mussolini dal 22 in poi ecco dalla marcia su roma dal un po diverso da quel ventennio ecco ci raccontano la sua vita un po prima e quindi niente andiamo a leggerli perché sono sicuro li troverete interessanti e allora parto subito con la storia di ida d'alser dimentica la dimenticata prima moglie di mussolini mussolini nella sua vita ebbe tante amanti e forse anche molti figli illegittimi ma chi fu la prima donna che fece breccia nel suo cuore nel suo cuore ida irene d'alser nacque a sopramonte in provincia di trento il 20 agosto del 1880 da una famiglia benestante suo padre albino d'alser borgomastro di sopramonte le fece avere un'istruzione che pochi potevano permettersi si diplopò a parigi in medicina estetica il che le permise di aprire un centro estetico a milano chiamato salute orientale di igiene e bellezza mademoiselle ida in questo periodo iniziò una relazione con giuseppe brambilla che le promise una vita insieme quando la storia finì nel 1914 lei lo denunciò chiedendo un risarcimento alla sua istanza venne rifiutata nel 1908 aveva conosciuto un giornalista un certo benito mussolini e due si innamorarono subito lei finanziò le attività politiche e l'apertura del giornale popolo d'italia mettendo in vendita ai muri del suo salone ma lui aveva già una donna rachele guidi dalla quale aveva già avuto una figlia che tenne nascosta a ida nel 1915 mussolini era pronto a partire per la prima guerra mondiale a ida gli comunica l'attesa di un bambino l'11 novembre del 15 benito albino figlio di ida d'alser e benito mussolini nacque a milano l'11 gennaio 1916 mussolini venne portato in tribunale da ida sotto accusa di aver sedotto e reso madre ida d'alser con promessa di matrimonio mai mantenuta egli venne costretto a riconoscere come figlio benito albino e dopo aver sposato rachele guidi iniziò a versare 200 lire al mese alla dalser per il mantenimento del bambino nel 1917 mussolini era milano ricoverato per le ferite in guerra e ida andò a trovarlo e urlò in faccia a rachele guidi che lei era la vera moglie di mussolini e due donne iniziarono ad azzuffarsi di fronte all'uomo che non poteva muoversi vi faccio vedere anche la foto di mussolini all'ospedale ferita questa dopo quell'episodio la dalser non fece altro che fare scenate in pubblico contro mussolini mandare lettere piene di rabbia nei suoi confronti al papa e perfino al re inoltre entrava e usciva di manicomio perché accusata di essere pazza benito albino invece venne affidato ad arnaldo suo zio e fratello di mussolini nel 1918 ricevette la richiesta di abbandonare milano per grave pericolo di turbamento dell'ordine pubblico per il contegno provocante verso la famiglia del professor mussolini per i propositi di vendetta da lei manifestati per le relazioni da lei coltivate per i raggiri ai quali ricorreva per vivere ma dopo la fine della guerra ritornò a milano a milano dove tentò molte volte di fare irruzione nel giornale popolo d'italia dove lavorava l'ex marito nel 1919 tornò a sopramonte dove decise di dedicarsi alla crescita del suo figlio benito che all'epoca aveva già quattro anni nel 1921 la sorella di ida adele si sposò e assunse la tutela legale di benito albino che prese il cognome paiker nel 1922 dopo la marcia su roma mussolini mise delle misure restrittive per fare in modo che ida non abbandonasse sopramonte e nel 1925 versò 100 mila lire sul conto di benito albino una bella somma per l'epoca ida però riuscì a prendere un treno per roma il suo scopo era essere riconosciuto come riconosciuta come prima moglie di benito mussolini ma venne fermata e riportata a trento intanto il cognato di ida riccardo padre adottivo di benito albino scriveva continue lettere di lamentela ad arnaldo mussolini i comportamenti isterici e ossessivi di ida stavano facendo impazzire la famiglia paiker che si vide costretta a vendere le proprietà e a trasferirsi lontano dalla donna ormai incontenibile mussolini ordinò quindi l'internamento della dalser nel manicomio di pergine val sugana un comune molto vicino a trento per poi trasferirla nuovamente al manicomio di san clemente a venezia il 1925 benito albino venne prelevato dalla polizia per essere portato sotto il suo nuovo tutore giulio bernardi ma il bambino si ribellava tanto che dovettero ricorrere a un fazzoletto bagnato dietere per stortirlo nel 1934 venne concesso a ida di tornare a pergine val sugana per il natale ma dopo essere fuggita dalla città tornò a sopramonte dove poi venne presa e riportata venezia dove nel 1937 morì all'età di 57 anni benito albino desiderò desidererò desiderò scusate sempre un padre si arruolò nella regia marina e nel 1941 si imbarcò sull'esploratore quarto verso la cina durante il viaggio continuò a ripetere all'equipaggio di essere il figlio del duce senza essere creduto ritornato in italia venne rinchiuso nell'ospedale psichiatrico di mombello di limbiate a milano dove morì nel 42 per consunzione all'età di soli 27 anni alcuni affermarono che le morte dei due potrebbero possano essere state opera del governo e di mussolini stesso anche se queste voci non sono mai state confermate bene qui c'è la foto di benito albino questa qui è la foto che abbiamo visto di mussolini all'ospedale ricoverato ferito di guerra e questa qui invece un'altra foto mi sembra dal popolo d'italia se non sbaglio bene adesso passiamo al secondo articolo che vi leggo stasera che è questa che è questo però ve lo circostanzio subito con una foto che è quello della storia della fotografia segnaletica di benedetto benito mussolini ecco questa è la fotografia è la fotografia segnaletica di di mussolini benito mussolini un inizio di carriera professionale travagliata a causa delle sue idee socialiste profondamente anticlericali che gli resero la carriera come insegnante quasi impossibile rendendo vani gli studi e il diploma precedentemente conseguito nel luglio del 1902 entrò in svizzera e andò ad abitare a losanna dove iniziò la carriera di giornalista che a varie riprese proseguì per diversi anni mussolini emigrò per fuggire la leva obbligatoria una circostanza decisamente ironica considerando gli sviluppi seguenti delle sue politiche militari a losanna fumura muratore manovale e garzone di bottega iscrivendosi al sindacato locale e diventandone in seguito segretario in svizzera scrisse per l'avvenire del lavoratore un giornale di stampo socialista famoso a livello nazionale il 18 giugno del 1903 mussolini venne arrestato dalla polizia di berna per il suo ruolo di agitatore in uno sciopero generale e fu scattata una fotografia segnaletica la vedete qui che divenne assai famosa nei decenni seguenti nella didascalia dell'immagine viene riportato erroneamente il nome di benedetto mussolini a causa di un errore dell'impiegato il futuro dittatore trascorse 12 giorni in carcere per poi essere liberato con un decreto di espulsione dal canton berna l'anno seguente nell'aprile del 1904 venne arrestato a ginevra per il permesso di soggiorno falsificato ironia della sorte a novembre del 1904 grazie e solo grazie all'ammistia concessa dal re Vitole Emanuele III per i remitenti della leva mussolini tornò in italia il futuro dittatore svolse infine il servizio di leva e dunque vi parlo adesso del no andiamo in ordine cronologico vi parlo adesso della strana storia di Violet Gibson apro sempre le immagini mi aiuto con le immagini stasera perché mi sembrato utilissimo mi sembra veramente utile farvele vedere ecco qua allora lei è Violet Gibson ed è famosa è famosa come essere stata una delle attentatrici di Benito Mussolini l'articolo si chiama la storia la strana storia di Violet Gibson la donna irlandese che sparò a Mussolini questo l'ho scritto io quello di Salomonaco lo ripeto per per chi non c'era l'inizio la strana storia di Violet Gibson la donna irlandese che sparò Mussolini il 7 aprile del 26 una donna di 50 anni originaria di Dublino sparò a Benito Mussolini in volto ferendolo al naso il suo nome era Violet Gibson ed era un membro dell'upper class irlandese proveniente da Marion Square a Dublino ci si è spesso chiesti cosa sarebbe successo se quell'attentato fosse andato a segno se il destino dell'Italia ma soprattutto del mondo avrebbe conosciuto un corso profondamente diverso rispetto a quello che tutti noi conosciamo cosa spinse una donna di 50 anni irlandese a sparare al leader italiano partiamo da principio Violet Gibson nacque a Dublino nel 1876 e ricevette un'educazione privilegiata suo padre fu primo barone di Ashburn per poi diventare Lord High Cancellor of Ireland dal 1895 al 1905 Violet quindi crebbe fra Dublino e Londra e a 18 anni fu tra le debuttanti alla corte della regina vittoria da bambina soffrì di malattie ancora allora difficili da curare come la scarlattina la pleurite e di attacchi di isteria che la fecero definire di carattere violento durante l'adolescenza mostrò interesse per Christian Science e la teosofia per poi diventare a 26 anni una fervente cattolica teosofia comunque non è la scienza che gli studia in Matteo ecco lo specifico nel 1913 si sposò con un artista ma presto rimase vedova in seguito alla morte del marito si trasferì a Parigi lavorando per una serie di organizzazioni pacifiste durante questo periodo si ammalò del morbo di Pégé una malattia ossea a volte invalidante e venne sottoposta a un intervento di mastectomia che la lasciò con un'orrenda cicatrice sul pet tornate in Inghilterra un'intervento di appendicite le causò un dolore addominale cronico di cui soffrì per tutto il resto della sua vita la Gibson fisicamente assai provata dalla malattia divenne ossessionata dalla religione attorno ai 40 anni fu una delle seguaci di John O'Fallon Pope studioso gesuita che la ossessionò con idee di martirio e mortificazione nel 1922 venne colpita da un esaurimento nervoso e fu rinchiusa in manicopio manicomio dichiarata pazza. Due anni più tardi viaggiò verso Roma insieme all'infermiera Mary McGrath andando a vivere in un convento. Fu in questa occasione che si convinse che Dio le comandasse di uccidere qualcuno come forma di sacrificio. Nel febbraio del 25 si procurò una pistola e si sparò al petto ma rimase miracolosamente in vita. Nel marzo del 26 morì la madre, un lutto che la fece convincere che avrebbe dovuto uccidere qualcun altro e il designato per il sacrificio fu il leader del partito fascista Benito Mussolini. Il 7 aprile del 1926 si recò a Palazzo del Littorio con la pistola avvolta in un velo nero e una grossa pietra, nel caso avesse dovuto rompere il parabrezza dell'auto del duce. Mussolini aveva appena lasciato un'assemblea del congresso internazionale dei chirurghi dove aveva fatto un discorso sulle meraviglie della medicina moderna. Mussolini stava camminando tra la folla a piedi, pensateci no, nel 26, da solo a piedi, e fu allora che Violetta G. Sparò un primo colpo al volto che ferì Mussolini al naso, e qui ve lo faccio vedere subito, e poi ne sparò un altro che però non partì perché la pistola fece cilecca. L'attentato era fallito. Il leader fascista rivase sorprendentemente calmo e disse alla folla, accorsa in suo aiuto, non abbiate paura, è una sciocchezza! Si bendò il naso e continuò la sua sfilata. Anni più tardi avrebbe affermato che egli era certamente pronto a una bella morte, ma che non gli sarebbe piaciuto morire per mano di una vecchia, brutta e ripugnante donna. Violette Gibson fu salvata dal linciaggio della folla dalle forze dell'ordine che la portarono in caserma. Agli agenti la donna confessò che sparò a Mussolini per glorificare Dio. Benito Mussolini si dimostrò assai comprensivo con l'inferma che non venne denunciata e fu espulsa dall'Italia, dichiarata paranoica cronica rinchiusa nell'ospedale di San Andrea in Inghilterra. Morì soltanto trent'anni più tardi, nel 1956, e al suo funerale non si registrarono partecipanti. Questa è la foto di Violette Gibson che viene arrestata dai carabinieri e questa qui invece è la foto identificativa di Violette Gibson. Se vi allargo un po' qui, si legge proprio ministero dell'interno, direzione generale di polizia scientifica, servizio centrale di segnalamento e identificazione. Quindi proprio si vede bene il volto della donna identificata dalla nostra polizia italiana. Di Violette vi faccio vedere un altro contributo però che è recentissimo, ve ne ho parlato anche per questo, share screen, da Corriere. Allora, una notizia che ho trovato su Corriere, naturalmente poteva essere qualsiasi altro, se evitassero di metterti qualsiasi tipo di pubblicità sarebbe meglio. Provo a ricaricare la pagina per vedere se mi toglie un po' di pubblicità e riesco a leggere. Ok. Eccoci qua, l'articolo di Corriere di qualche giorno fa, peraltro. Violette Gibson, di Irlanda, riabilita la donna che sparò a Mussolini, una targa a Dublino. ha tentato che poteva cambiare la storia dopo, insomma, avete capito, 7 aprile del 26 la storia l'abbiamo raccontata, ma sembra che, cioè adesso hanno detto, non era pazza, il suo fu un gesto politico, ecco. Cioè dall'Irlanda ci fanno sapere che non era pazza, il suo fu un gesto politico. Ora io questo, ecco, e aggiungono, un'elegante villa in mattoni rossi di Marion Square, nel centro di Dublino, potrebbe presto sfoggiare una placca commemorativa in onore di Violette Gibson, la donna irlandese che nel 26 attentò alla vita di Veneto Mussolini. Il Consiglio Comunale della città ha approvato la mozione con la quale si chiedeva un riconoscimento dell'impegno antifascista e della gesta della donna, del gesto della donna, morta in un ospedale psichiatrico inglese nel 1956. Quindi, addirittura, sembra che proprio sia stata completamente, cioè è stata riabilitata, se non dall'Italia, sicuramente dall'Irlanda, è stata completamente riabilitata. Facciamo un piccolo salto in avanti e vi faccio vedere l'ultimo articolo, questo è di Anna Lisa, che si intitola La faccia di Mussolini per il sì, erano le elezioni del 1934. L'edificio della foto è Palazzo Braschi, a Roma. La costruzione fu realizzata nel cuore rinascimentale della capitale, fra Piazza Navona e Corso Vittorio Emanuele II, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Già nel 1871, gli eredi della nobile famiglia Braschi, in difficoltà economiche, vendettero il palazzo allo Stato italiano, che lo destinò ad ospitare la sede del Ministero degli Interni. Con l'avvento del fascismo, il palazzo divenne dal 1922 la sede della Federazione Fascista dell'Urbe, non la sede nazionale del partito. Quella che si vede in foto non era una copertura permanente della facciata, coalescita così in occasione delle elezioni del 1934, in cui gli italiani, o almeno quelli che avevano diritto al voto, quindi non le donne ad esempio, erano chiamati a votare a favore o contro una lista precostituita, composta da 400 nomi, proposta dal Gran Consiglio del Fascismo, con un sistema elettorale di tipo plebiscitario, cioè non è che sceglievi, vuoi dire ti piacciono questi 400 oppure no. I tanti sì e impressi sulla facciata di Palazzo Braschi invitavano gli elettori a votare a favore della lista presentata dal Duce. La procedura di voto prevedeva due schede e due buste. Quella con il sì aveva i colori della bandiera italiana e i simboli fascisti, mentre quella con il no era di colore bianco. L'elettore, dopo aver scelto la scheda, la imbustava e la poneva nell'urna, ma doveva riconsegnare agli scrutatori, dentro la seconda busta, la scheda rimanente. Il controllo sulle votazioni era assoluto e di fatti il 99,84% degli elettori votò a favore della lista del Duce. La parvenza democratica di questo tipo di sistema elettorale consisteva nella possibilità di tornare alle urne con più liste se quella presentata al primo turno fosse stata bocciata dagli elettori. La fotografia del volto di Benedetto Benito Mussolini, minaccioso e imperante sulla facciata di Palazzo Braschi, ci ricorda quanto la democrazia sia un bene prezioso, ma estremamente fragile. Bene, allora, dunque, ho fatto questa breve, una ventina di minuti di lettura, perché in realtà in questi giorni avrei una grandissima voglia di parlare di politica, sono sincero. Sono sincero perché siamo a un anno dal primo lockdown, peraltro un anno da quando abbiamo iniziato a conoscerci veramente, ovviamente noi, anzi io e voi, community, quindi siamo diventati una vera community, adesso abbiamo una casa di vanilla, abbiamo un sacco di cose, e insomma, prima di tutto questo, vanilla magazine non era quello che è oggi, soltanto su YouTube, era già su Facebook, ma non era quello che è oggi, quindi per me è stato un gran periodo questo qui, questo anno, però a livello politico avrei molto da dire. In realtà non è lo scopo del mio canale, nel senso che io non sono un giornalista politico, non mi intendo di politica, nel senso che non sono certo esperto, posso avere delle opinioni, come ce ne hanno tutti, ma sono quelle opinioni molto a livello bar, ecco, lo dico molto sinceramente, perché tanto è inutile far finta di essere esperti quando non si è esperti. Però devo dire che le scelte del governo di questi giorni mi hanno davvero, davvero colpito. Anche un moderato, che può essere tranquillo come sono io, eccetera, rimane colpito da quello che è stato scelto in questi giorni, dall'avvicendamento del governo Conte Draghi. Insomma, si rimane certamente colpiti da scelte che molte sono state impopolari. Magari alcune sono giuste, io non sto mettendo in dubbio. Ecco, parlavo ieri con un amico, un giurista che di mestiere fa l'assicuratore, però giustamente mi diceva adesso il governo deve fare le scelte che sono necessarie ma non popolari. Ed è un'opinione legittimissima. Io ho un'opinione diversa, non sono qua a proporvela, però di che cos'è che voglio parlare? Voglio parlare del fatto che di un leader politico, l'abbiamo visto attraverso questi quattro piccolissimi articoli, ci si ricorda spesso gli aspetti più celebri, cioè di Mussolini, ricordiamo tutti il fatto che sia stato il duce, è famoso il fatto che ha provato in guerra l'Italia, che è stato un dittatore, però, come dicono tantissimi, non certo io, ha fatto anche delle cose buone, ha fatto tante cose buone, in realtà si dice, la frase un po' è questa qui, e poi dopo però andiamo a vedere l'uomo, nel senso che questo qui era una persona che si ritira dalla leva, mette in cinto una donna e l'abbandona praticamente, la fa rinchiudere in manicomio, fa morire il figlio in manicomio, ecco, cioè, non era proprio, cioè vai, scatta in Svizzera per non fare il servizio di leva, era odiato addirittura dalla donna inglese, che oggi non si sa se abbia fatto il gesto per follia, oppure no, come appunto il sistema elettorale era quello plebiscitario, cioè, che cosa ci ricordiamo noi oggi di quegli anni 20 e 30, e che cosa in realtà sono stati quegli anni 20 e 30? Ecco, questo che è un po' una disquisizione alla Mark Block, nel senso, che cos'è la memoria, e invece che cos'è la storia certa? Ecco, io sono abbastanza sicuro che su tanti leader politici, ribadisco, ho voluto iniziare con Mussolini, ma avrei voluto parlare di Stalin, sarebbe stata esattamente la stessa cosa, come avete capito, tanti di voi, io sono assolutamente contro le dittature, i totalitarismi, eccetera, cioè, è proprio, sono contro, comunismo e fascismo, nazismo, in senso dittatoriale, proprio, sono contrario al 100%, quindi non vogliate vedere, nelle mie parole, uno schieramento politico, perché non c'è. Quello che però voglio dire è, Mussolini, come ce lo ricordiamo, ce lo ricordiamo come un uomo forte, integerrimo, eccetera, in realtà, se andiamo a vedere, era uno scavezzacollo, per dirlo in un modo più colorito, come tantissimi altri, così come è stato il suo socio Hitler, così come è stato Stalin, che era un bullo di strada, così come sono stati mille altri leader politici, ma che poi sono riusciti a costruirsi un'immagine pubblica di uomo forte, integerrimo, che non scende mai a compromessi, eccetera, eccetera, ora, io, la riflessione, perché poi studiare storia serve per molto, per capire la realtà odierna, che non si ripropone mai uguale, cioè chi dice che la storia è circolare, si ripropone sempre, secondo me non capisce bene, come dire, le sfaccettature della storia, capisce soltanto quello che si vede un po' dall'esterno, cioè che certe decisioni degli uomini ricorrono, sì, è vero che certe decisioni degli uomini ricorrono, perché l'uomo tende a fare gli stessi sbagli, tende a fare degli sbagli per convenienza, per paura, per egoismo, oppure per, perché magari è una persona retta, ecco, magari quelle scelte lì vengono riproposte. Però ribadisco, la memoria che abbiamo di Mussolini, come avevamo visto in questi quattro articoli, è molto diversa rispetto a quella che si fa la sua storia, ecco, e così io non vorrei che, cioè, sono curioso di vedere, sarei curioso di ipotizzare, come questi tempi qui, che sono dopo, per l'Italia, ma per il mondo intero, quindi 2020, 2021, saranno ricordati alla stregua di una guerra mondiale, cioè, noi stiamo vivendo dei tempi in cui, che dai posteri, verranno certamente studiati, probabilmente in modo molto simile, secondo me, a una guerra mondiale, perché l'avvenimento storico è veramente, è uno spartiacque fra il prima e il dopo. Sì, c'è stato, prima di noi, tanti lo ricordano, c'è stato il 2011, però il 2001, scusate, il 2001, che cosa dico, il 2011, il 2001, sì, è stato il 2001, però non ha toccato tutto il mondo, sì, ha toccato l'Afghanistan, ha toccato il Medio Oriente, naturalmente gli Stati Uniti, ma non ha toccato tutto il mondo, è vero, tutti noi ce lo ricordiamo, tutti noi sappiamo dire esattamente, è famosa sta cosa, cosa stessimo facendo nel 2001, ma poi dopo le conseguenze ci hanno toccato, per dopo, per la crisi di Muti Subprime, eccetera, ma non è stato un evento così come la pandemia, che ha influito sulla vita di miliardi di persone. ecco, adesso la domanda che vi faccio io, la questione che vi pongo io è questa, se i leader politici vengono così travisati nel corso, poi dopo del tempo, e ormai sono passati quasi cent'anni dal ventennio fascista, siamo nel 2021, ecco, l'anno prossimo sarà il centenario della Marsa su Roma, i miei soliti lapsus, fra ottobre dell'anno prossimo sarà il centenario della Marsa su Roma. Cioè, sono passati cent'anni, oggi queste cose qui non le ricorda praticamente più nessuno, ma noi, fra cento anni, tutti noi non ci saremo più, probabilmente, a meno i giovanissimissimissimi che mi seguono, io sicuramente non ci sarò più. Come ricorderanno gli uomini fra cent'anni questa pandemia qui? Gli uomini che hanno fatto i nostri destini, quindi prima il governo Conte, poi il governo Draghi, saranno veramente dei governi, cioè, non so come dire, saranno dei governi che verranno ricordati. perché hanno preso delle decisioni che le persone fra cent'anni pagheranno ancora di tasca loro, come noi paghiamo la decisione della conferenza di Versailles del 1919, così, e come paghiamo naturalmente le conseguenze della Marsa su Roma, così, le persone che stanno nascendo, che oggi nascono e magari con facilità arriveranno a cent'anni, questi bambini qui pagheranno le conseguenze delle decisioni di questi governi che ci stanno governando. Io le pagherò molto meno, ho quasi 40 anni, ho già vissuto i primi 39 in un modo, potrò viverne altri X in un modo, ma i primi 40 li ho già vissuti in un mondo che è diverso rispetto a come sarà il dopo pandemia. e le decisioni che stanno prendendo i governi oggi, il nostro governo in particolare, mi viene in mente altri governi che sarebbero criticabili, secondo me l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Francia, queste decisioni qui, nel Brasile, saranno molto influenti sui neonati di oggi. E come influiranno sulla loro vita? Influiranno in modo pesante, sia le politiche a livello economico, sia le politiche a livello sanitario, sia le politiche di istruzione, perché io non ho mai saltato, ragionavo proprio con questo amico che parlavamo degli anni di liceo, io non l'ho mai saltato. Un giorno di quinta, ecco, di quinta liceo, di quarta liceo, di terza liceo, i ragazzi che fanno la maturità quest'anno, quelli che l'hanno fatto l'anno scorso, si sono persi quel pezzo di vita che per me è stato importantissimo, vivere la... cioè, la quinta liceo, la ricordo come l'anno più bello della mia gioventù, ecco, se vogliamo metterla in questi termini. E loro non lo vivranno come l'ho vissuto io, lo stanno vivendo in un modo diverso, molto meno comunitario, però me lo si lasci dire. Queste decisioni dei governi sono state giuste, come saranno ricordate? Le ricorderemo come ricordavamo Mussolini a livello popolare, cioè integerrimo, non amato dal popolo, dove c'erano questi plebisciti, eccetera. Certo, ha ammazzato anche lui un sacco di... la partita dei parlamentari, insomma. Però c'erano i dissidenti, ovviamente, però come ce lo ricorderemo davvero? Era uno scavezzacollo, ce lo ricordiamo come integerrimo. Ce lo... Insomma, ecco, pensiamoci, come ci ricorderemo Draghi, come ci ricorderemo Conte, e non solo loro, perché in realtà una persona che grandemente sta influenzando la nostra vita è il ministro della Salute e della Sanità, Roberto Speranza. Ecco, datemi qualche risposta nei commenti e via. Bene, sono contento che siamo in tanti, vedo che l'argomento appassiona, immagino, sia il livello dell'argomento dell'articolo, ma anche, immagino, la discussione. Isabella Angelelli mi chiede, Matteo, una domanda. Cosa pensi di chi dice che il reato di apologia del fascismo sia qualcosa che ingiustamente limita la libertà di parola e di pensiero delle persone? Guarda, ne ho... avevo studiato per un post, ma poi dopo non l'ho fatto. Allora, in Italia ci sono pochissimi o quasi zero condannati per apologia di fascismo, nonostante se ne parli bene o male, tranquillamente, apertamente, del fascismo, anche in senso di, come dire, di glorificazione di quel movimento politico. Quindi, in realtà, sì, in Italia l'apologia del fascismo è reato, ma poi dopo nella pratica dei fatti se ne parla abbastanza liberamente, poi con tutti i limiti del caso. dunque, penso sinceramente che sia giusto fare... cioè, secondo me, è giusto che l'Italia sia una nazione antifascista. È giusto perché quello che abbiamo pagato in termini di vite umane, di economia, di distruzione, di tutto quello che è stato il fascismo, è giusto che non si ripresenti mai più. E io penso che se non fosse scritto a chiare lettere, nella Costituzione, se non ricordo male, non vorrei dire una sciocchezza, ma credo che oltre alleato proprio ci sia nella Costituzione la citazione del fascismo, ma chiedo consigli ai più esperti perché non lo ricordo, io penso che se non ci fosse stato scritto a chiare lettere certi movimenti di destra, non faccio nomi, però avrebbero preso molto più in largo verso una destra di tipo fascista. E sai perché te lo dico? Guarda, te lo dico perché quando ero in Grecia, io sono stato in Grecia proprio nel momento in cui c'è stata la crisi e poi dopo è venuta fuori Alba Dorata, Chrissi Avghi, dove Crissos è l'oro e poi c'è l'Alba, la parola Alba, ecco, Avghi, Chrissi Avghi. E di cosa è successo? È successo che da loro non c'è un movimento antifascista, non c'è una coscienza antifascista come c'è qui. Ecco, certo, esiste la coscienza antifascista, antidittatoriale, eccetera, come c'è un po' dappertutto, ma non è scritto così a chiare lettere come è scritto da noi, ecco. E lì penso che questo movimento populista abbia preso molto, molto, molto in largo anche perché non c'è questa coscienza antifascista che invece l'Italia ha. Ecco, in questo senso qui credo che sia giusto mettere, che sia scritto a chiare lettere in in ogni dove, insomma, che che non che non che non appunto, scusami, mi sono incantato, è giusto che ci sia appunto il ragionamento sull'antifascismo, insomma. e allora questo non vuol dire che non debbano esistere dei movimenti di destra, naturalmente, perché sono ultra legittimi, cioè è impossibile vietare un movimento di destra estrema, ecco, cioè l'estremismo deve poter essere accettato finché non sfocia in violenza o in apologia del fascismo, perché la destra noi abbiamo sempre solo in mente che possa essere esclusivamente fascista, ma guarda, ci sono dei movimenti di destra che non sono proprio fascisti, nel senso che magari sono molto più, come dirti, molto meno per il welfare sociale, adesso mi viene in mente alcune frange del partito repubblicano statunitense, ecco, sono molto da destra, ma non vanno nel fascismo, cioè non c'è una dittatura, non si va a tendere alla dittatura fascista, insomma. dunque, Marco Rossi dice secondo me se c'è il reato di apologia al fascismo, giustamente, ci deve essere anche quello di apologia al comunismo. Allora, guarda, in realtà sono due cose un po' diverse, ti spiego, mentre il fascismo prevede inevitabilmente una dittatura, il comunismo in teoria non lo prevederebbe. Questo, cosa voglio dirti? Secondo me è giusto, bisognerebbe un po' aggiornare, ok? Nel senso che bisognerebbe dire più che apologia al fascismo, bisognerebbe fare proprio un'apologia alla dittatura, cioè non dobbiamo più ragionare sull'uomo forte che ci guiderà all'alba dorata per dirla alla neogreca. Secondo me questo deve essere il concetto, cioè no dittatura. In Italia inevitabilmente ne ha avuto la dittatura fascista, immagino che se ci fossimo trovati un comunista come Stalin peggio di Mussolini a mio parere, nel senso che Stalin io credo che fosse decisamente molto peggiore come dittatore di Mussolini, io credo che sì, probabilmente avremmo un'apologia al comunismo, immagino. È proprio solo una questione di storia, insomma. Sì, esatto, Rosario, bravissimo, hai colto, hai detto molto bene i termini, hai usato molto bene i termini. Con il fascismo si intende già un movimento pericolosamente violento e patriottico. Dietro il comunismo c'è un'ideologia politica e sociale. Sì, in realtà per dire anche dietro il nazismo, nazionalsocialismo, c'è sempre un movimento socialista dietro. Infatti se andate a vedere le organizzazioni fasciste e naziste sono molto simili alla fine c'è tutta questa congregazione di lavoratori che si trovano cioè l'ideologia di base è quella socialista. Poi dopo il fascismo e il nazismo si declinano in una dittatura cioè l'obbligo dentro c'è alla dittatura sostanzialmente poi è così capito c'è l'obbligo alla dittatura o meglio si sono sempre declinate così a parte Italia e Germania pensiamo anche al fascismo di Francisco Franco ecco e altri in stati più più piccoli insomma dunque allora per parlare di attualità invece ragazzi che mi mi piacerebbe parlare più sull'attualità vorrei Cristina ci dici da un primo suggerimento penso che in futuro a meno che ci possa essere una perdita di memoria collettiva non dimenticheremo il perché si sia deciso di attuare certe scelte più o meno condivisibili dunque allora do intanto il benvenuto a Vela Tuvamos che è un nuovo abbonato o nuova abbonata benvenuta nel club allora dunque noi probabilmente non le dimenticheremo però guarda lo dico in modo guarda in modo molto personale mi rendo conto guarda che quando hanno chiuso gli impianti da sci adesso secondo me è stata veramente una forzatura della concezione dello Stato cioè mi spiego se tu Stato mi dici fino a dieci ore prima che io posso aprire gli impianti scistici e dieci dieci ore prima che che li apra tu mi blocchi tu stai secondo me stai veramente attentando alla nostra Costituzione lo dico con grande tranquillità non è che non vi vergogno a dirlo secondo me è veramente un attentato alla Costituzione questa perché l'Italia forse ce lo dimentichiamo ma è una repubblica democratica fondata sul lavoro se io imprenditore operaio dipendente qualsiasi figura non posso programmare il lavoro a meno di dieci ore allora l'Italia non è più una repubblica democratica fondata sul lavoro è fondata su una dittatura di tipo del governo una dittatura che in questo caso qui è stata espressa dal ministro della salute Roberto Speranza secondo me è una dittatura cioè arrivare a dieci ore prima in cui ti dico ti fermo io credo che non mi rendi programmabile il lavoro a meno di dieci ore quindi è chiaro che qualsiasi imprenditore lavoratore eccetera se era programmato almeno da il 15 gennaio che avevano detto riapriremo gli impianti io il 15 febbraio il 14 febbraio alle 22 di sera dico che invece no non si riapre secondo me questa qui è una cioè è veramente un vilipendio la nostra costituzione all'articolo 1 della costituzione ecco è questo qui per lo sci secondo per lo e come ce la ricorderemo questa scelta qui ce la ricorderemo bene cioè io adesso ce l'ho veramente bene in mente ma fra 20 anni ce la ricorderemo oppure diremo soltanto ah vabbè vabbè abbiamo chiuso lo sci quell'anno probabilmente diremo così ma non ci ricorderemo questa sfaccettatura che secondo me la coglie chiunque il fatto che se uno non riesce se un governo se il mio governo che io eleggo che io pago con le mie tasse non mi consente una programmabilità del lavoro a meno di 10 ore questa qui non dico che è dittatura ma quasi cioè siamo molto vicini ai concetti di dittatura e non sto esagerando cioè stiamo accettando delle condizioni per una priorità sanitaria io credo fino all'anno scorso credevo del tutto legittime il coprifuoco cioè il coprifuoco è una misura non da uno stato libero è una misura semi-dittatoriale e tantissime altre misure adesso non voglio entrare cioè non voglio fare quello che dà il là a una discussione complottista perché in realtà non è una discussione complottista ma credo che ci sia stato un mix fra incompetenza faciloneria e scelte necessarie che ha dovuto prendere il governo perché io sono qui di fronte a una telecamera a casa vanilla con 10-20 libri dietro e 4 modellini di Lego non sono a Palazzo Chigi capito quindi per me è facile giudicare ben altra difficoltà e andare lì e firmare i provvedimenti allora io ribadisco cioè oggi hanno chiuso le scuole ci hanno fatto queste zone arancione scuro c'è già chi dice che differenza c'è fra la zona arancione scura e la zona rossa che i lavoratori devono andare a lavorare i figli sono a casa e devono stare a casa uno si deve inventare qualsiasi cosa e possono non dare quei ristori che stanno andando invece nelle zone rosse allora io credo che qui cioè il tema i temi siano tanti cioè non ci può essere com'era per Mussolini la faccia di Mussolini per il sì un popolo che dice sì a tutto cioè qui un po' io credo che si sta esagerando verso ok il governo può fare qualsiasi cosa io la penso così sinceramente ok soprattutto sono sincero di queste misure qui la chiusura delle scuole elementari che obbliga milioni di genitori a stare a casa io credo che non abbia un senso ecco cioè non è quello lì il luogo dove si si propaga il contagio sono certamente le scuole superiori lo sappiamo le università che sono chiuse da tempo in memore eccetera ma le scuole elementari non è il luogo le statistiche lo dicono non è il luogo dove si propaga il contagio infatti gli asili sono rimasti aperti gli asili e la scuola materna allora io dico cioè questa qui è una non sto dicendo che è una dittatura non sono un complottista sono tranquillissimo so che vivo libero so che posso parlare solo il fatto che io possa dire queste cose fa capire che non è una dittatura però ribadisco queste scelte cominciano ad assomigliare a quei tipi di scelte che si prendevano in governi di stampo ditatoriale ribadisco la non programmabilità del lavoro aggiungo anche se io genitore ho un figlio e fino a domenica non so se sono in zona arancione scuro in zona arancione in zona gialla eccetera come faccio a programmare il mio lavoro io dipendente come faccio a programmare il mio lavoro e io studente perché sto raggiungendo a un bene primario della mia vita cioè che è come bere come mangiare andare a scuola ragazzi e noi non ce lo possiamo più ricordare ma se io devo pensare alla mia vita senza scuola probabilmente era davvero importante come bere e mangiare queste tipo di scelte qui stanno iniziando ad assomigliare a delle scelte di stampo veramente autoritario se non dittatoriale detto questo non mi piace essere sempre quello politically correct nel senso che ho supportato mi è piaciuto dire che secondo me le scelte di Conte sono state molte obbligate sono state in certi casi anche esageratamente lassive pensiamo alle discoteche di quest'estate scelte folli veramente nel senso opposto adesso invece stiamo andando nella verso ancora opposto so che c'è una versione c'è una ci sono tutte queste varianti e io non sono né un esperto di politica né un esperto di medicina però faccio notare da semplice cittadino che un minimo ragione pensa che questo tipo di scelte sono scelte che ce le ricorderemo in un modo sono scelte piene di sfaccettature noi non sappiamo alla fine cioè noi fra cinque anni dieci anni perché se io credo che non durerà pochissimo questa situazione pandemica queste scelte qui fra dieci anni ci comporranno un disegno no? cioè noi adesso abbiamo tanti puntini e i puntini sono le scelte ok? quindi noi abbiamo x puntini che diciamo chiudiamo le scuole elementari si chiudiamo le scuole superiori si chiudiamo le palestre si chiudiamo lo sci si chiudiamo 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 apriamo 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 ok in base a queste scelte qui noi stiamo costruendo un disegno ma noi solo fra dieci anni vedremo la fine del disegno non lo vedremo adesso è un po' come i disegni ecco quelli proprio con i numeri che devi seguire i numeri i numeri dei puntini e completi il disegno noi non sappiamo che disegno verrà fuori sappiamo che ci sono tante scelte che il nostro governo sta prendendo come ne ricorderemo queste scelte questa è un po' la domanda di stasera e in più che scelte sono state queste qui perché noi adesso diciamo ok si chiudiamo la scuola elementare lo so numero 3 invece che il 4 ma è stata la scelta giusta cioè il disegno che si compone alla fine è stato giusto o è stato sbagliato questo non lo sappiamo e io cioè non ho avuto grossi sapete io non sono uno polemico nei confronti del governo adesso devo dire la verità questo cambio di passo governo Draghi un pochino mi ha preoccupato mi ha preoccupato perché ci troviamo esattamente dopo un anno guardate ero il primo marzo stavo tornando adesso dall'ultima vacanza che ho fatto l'anno scorso e stavo tornando dalla montagna e sono trovato qui a fare e là a cominciare live eccetera un anno fa eravamo messi così un anno fa dopo un anno siamo messi esattamente uguale come ce le ricorderemo queste scelte sono state scelte giuste sono state scelte sbagliate semplificheremo tutto oppure ricorderemo queste sfaccettature ditemelo nei commenti e allora Giacomo Di Nardo giustamente dice secondo me facciamo fatica a ricordarci che l'Italia ha dei problemi enormi pregressi che non si possono certamente risolvere durante una pandemia anzi la pandemia li accentua questo sono completamente d'accordo con te Matteo mi hai incuriosita quindi cosa sarebbe più giusto fare secondo te se quella di adesso non è la strada giusta calma Cristina io non ho detto che non è la strada giusta non voglio veramente semplificare cioè ricordate bene io non voglio semplificare non sto dicendo che ho la via per il per il nirvana non guarda l'unica cosa che posso dire è questo non avrei chiuso le scuole elementari posso dire che sullo sci avrei chiuso da inizio stagione e basta così tutte le persone che lavoravano nello sci potevano programmarsi e non avrei fatto questa buffonata delle aperture contro aperture eccetera non avrei fatto la zona arancione scuro perché a me sembra una presa in giro perché hai le stesse limitazioni della zona rossa senza avere le facilitazioni della zona rossa della zona rossa quindi perché mi fai la zona arancione scuro quando mi puoi fare la zona rossa anche questo mi sembra un po' una forzatura queste cose che non farei ecco poi devo dirti cioè magari anche le medie potrebbero stare aperte tra le altre cose perché magari i bambini e le medie quanti contagi ma perché non ci dice mai nessuno quanti contagi ci sono lì perché non ci dice mai cioè perché non vengono fuori i numeri perché non ce ne argomentano queste cose nel dettaglio cioè era venuto fuori quell'altro cioè scusate ogni tanto mi viene da usare questi termini il cioè speranza il suo consulente quello che faceva l'attore che non ricordo più come si chiama era venuto fuori sì sulle piste da sci svizze era venuto fuori la variante inglese ma dove sono i numeri cioè oh ragazzi un governo cioè dovrebbe anche motivare con dei dati certi capito cioè non sparare sciocchezze a caso così sì perché allora se tu che stai facendo il discorso da bar non sono più cioè quante persone si sono contagiate nelle piste da sci svizzere perché là sembra che non hanno detto che si sono contagiati io ho letto dei giornali svizzeri e non dicono che si sono contagiati quindi chi è che ha ragione qui ha ragione il consulente del del ministero della sanità oppure hanno ragione i giornali svizzeri perché qui mi sembra che cioè delle due l'una uno delle due dice una sciocchezza ecco chi è che ha ragione andiamo a vedere nel dettaglio cioè ma quando tu governo prendi una decisione mi stai dicendo sì le piste da sci le chiudiamo bene quanti contagi ci sono stati nelle piste da sci negli altri paesi che hanno tenuto aperti svizzere e austria aggiungo mi chiudi le scuole elementari quanti contagi ci sono stati nelle scuole elementari rispetto agli altri posti di aggregazione sociale quanti contagi ci sono stati nelle medie cioè dammi a motivare un po' le cose capito cioè non dirmi solo è così e basta cioè ho capito che siamo un popolo fra virgolette cioè che io sono il primo a essere un ignorante però magari se mi dai qualche dato e qualche numero io comincio a farmi un'idea non che me lo devo inventare e dire solo semplicemente sì come era la faccia di Mussolini io non voglio dire sì e basta vorrei dire ok sono un cittadino pago le mie tasse se ti pago per stare al governo tu mi dai anche delle motivazioni con dei numeri allora io ti dico certo guarda ci sono stati x mila contagi nelle scuole elementari con una percentuale che altrimenti l'RT salirebbe troppo perché proprio nella scuola elementare si vanno a contagiare ok sono il primo a dirti chiudile tutte o le medie va benissimo ma questi numeri qui perché non vengono mai fuori cioè è questo che non capisco insomma cioè non mi piace la non mi piace la faccelloneria con cui veniamo governati nel darci queste come dire questi diktat ai quali non possiamo neanche cioè non riusciamo neanche a capire che cosa sia giusto sia sbagliato è per questo che dico come ce le ricorderemo perché chi è che ci dice che queste cose qui siano tutte esattamente come ce le ha dette il governo hanno riaperto le discoteche d'estate e vi è sembrata una soluzione sensata cioè era un'idiozia che io non lo dico cioè è chiaro che se avessi 19 anni e andassi in discoteca mi avrebbe fatto piacere ovvio però non ci voleva cioè non ci vuole né Matteo Ruboli ma non ci vuole neanche chissà quale altro scienziato per capire che se tu riapri le discoteche i contagi volano e lo dico proprio perché qui a Ravenna peraltro è stato che è una terra di discoteche la Romagna lo sapete tutti è stato proprio grazie alle discoteche che i contagi sono volati e allora cioè ci sono state delle scelte che neanche Topolino ci sono state delle scelte adesso questa decisione dello sci è giusta questa decisione delle zone arancione scura è giusta non è che è una scelta come quella delle discoteche che è stata evidentemente una vaccata per dirla proprio in modo chiaro eh insomma questo è un po' ecco per dire Zingaretti che andava a fare l'aperitivo no? non è che noi dobbiamo cioè questo qui è uno che ha il governo è il segretario del secondo giusto o il terzo partito italiano è uno che sta presendo decisioni Zingaretti e Salvini erano a fare l'aperitivo l'anno scorso l'anno scorso 28 febbraio se non ricordo male o 27 erano a fare l'aperitivo per dire non ce n'è Covid allora cioè queste persone oggi prendono decisioni io ribadisco non sono nessuno e non ho competenze però vorrei anche vedere dei dati scientifici non solo che mi dici chiudo le scuole elementari perché se tu mi dici chiudo le scuole elementari con lo stesso criterio con cui queste state hai aperto le discoteche qualcosa non sta andando nel verso giusto capito? cioè io vorrei che questo governo iniziasse a motivarci con dei dati e delle relazioni scientifiche le scelte che vengono prese Annalisa Costa sì anche a Rimini tra locali aperti discoteche i contagi sono volati scusate metto in carica il portatile perché se no ci abbandono ecco Andrea 7 potevano stare chiusi in estate e fare i lavori per le scuole così si prendeva bene e combatteva nel modo giusto Berenice Marino il punto è che il governo si barcamena fra salute ed economia ed è difficile trovare la quadra tra i due elementi o te ne freghi dell'economia o delle salute Belbusillis eccetera cioè io dico ribadisco io non è che sono contro il Mauro Cucchi sì allora le scuole elementari sono chiuse nelle zone arancione scuro che iniziano a diventare numerose cioè non sono più due capito sono X in Italia sono tante cominciano a diventare tante le zone arancione scuro perché non ci danno la zona rossa anche questa cosa qui perché non la motiviamo seriamente in modo cioè tutti dei diktat tutte delle cose tutti cioè governare soltanto a suon di decreti ragazzi cioè non è che si può far così a infinito cioè bisogna anche passare ogni tanto da un voto parlamentare dico cioè insomma non si può continuare a decreti ribadisco sono cioè finché è una situazione ribadisco contingentata e che ha un inizio una fine capito cioè potevo capire la marzo dell'anno scorso marzo aprile maggio sì è chiaro che governi a decreti perché è una situazione nella quale erano cent'anni che non ci si trovava non si capiva bene andiamo avanti a decreti tutti chiusi non ci pensiamo più adesso mi sembra che le cose non siano più così è già un anno che stiamo vedendo questo film è già un anno che stiamo facendo errori perché errori ci sono stati ci sono fatte anche cose giuste tipo la mascherina la cosa più giusta di tutte contro la quale non contro per la quale aveva veramente fastidio all'inizio oggi secondo me è la soluzione è una soluzione eccezionale quella della mascherina che non costa niente perché alla fine è una soluzione efficacissima nel combattere il contagio che che non costa nulla non ha un prezzo ecco sì esatto per dire Giuseppe bravissimo i banchi con le rotelle la più grande cavolata fatta questa ce la ricorderemo per dire capito una sciocchezza che non c'erano in terra cioè banchi con le rotelle che proprio soldi veramente presi e buttati nel bidone cioè potremo mettere cioè potrai tu governo iniziare a darmi tutta una serie di numeri per i quali io riesco a capire che tu stai facendo bene cioè cominciamo a dare i dati di come tu stai governando oppure bisogna solo governare a decreti a me questa cosa qui non piace cioè secondo me la democrazia moderna che non è più quella di Aristotele naturalmente o la democrazia tenese ma è una democrazia dove io ti eleggo perché tu dovresti essere più bravo di me più competente di me a prendere decisioni e questa è il funzionamento della democrazia italiana ma tu che ti eleggo e ti strapago non io naturalmente però noi popolo lì vengono strapagati sia parlamentari sia ministri cioè tu vorrai darmi tutta una serie di numeri per cui giustifichi il lavoro che stai facendo gli investimenti i soldi dove li spendi il perché di queste misure insomma secondo me manca un po' di serietà verso il popolo che noi tendiamo molto a dimenticare cioè noi tendiamo molto a somatizzare per 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 prendere una parola antipatica che non mi piace ma veramente tendere a somatizzare che dopo un anno comincia ad essere una deriva pericolosa Cristina mi dice non pensiate che qua in UK le cose stiano andando molto meglio intendo a livello di scelte politiche giusto la vaccinazione sta andando più spedita ma per il resto guarda UK credo che sia molto peggio dell'Italia cioè se devo dire il discorso UK penso che sia peggio ci sono stati in Inghilterra molti più morti peraltro l'Inghilterra è un'isola quindi sarebbe stato molto più facile chiudere tutto e non pensarci più invece l'Inghilterra si è messa da sola con le sue mani nel disastro l'Inghilterra ultimamente sta facendo delle scelte politiche poco lungimiranti lasciatemelo dire a partire dalla Brexit a finire a questo discorso della gestione della pandemia non è il modello politico che prenderei mi piace un po' di più già la Germania ecco ma non certo l'UK credo proprio a livello politico abbia poco da insegnare sono sincero sì esatto Annalisa più preparati sì cioè in teoria noi elettiamo dei politici perché costoro siano più siano meglio di noi cioè devono essere migliori cioè più competenti più preparati più tutto questo è lo scopo della politica cioè quando nel 1860 e prima ancora con lo statuto Albertino se l'essero da cui poi dopo naturalmente dal Regno di Savoia nacque l'Italia Unita se l'essero i parlamentari era proprio il concetto che la borghesia più culturale si andava a mettere in politica e veniva votata e questa borghesia con grande cultura guidava il paese perché il contadino o il Matteo Ruboli della situazione che non capisce nulla e non ha a sufficienza dati per decidere non può prendere queste decisioni importanti invece l'alta borghesia nel Regno di Savoia riusciva a prendere quelle decisioni importanti ve ne dico una il più grande politico europeo dell'Ottocento secondo me Camillo Benso Conte di Cavour cioè il politico probabilmente veramente più io penso davvero la stella start della politica ottocentesca cioè non si ritrova oggi fra i parlamentari italiani ma è molto semplice perché non c'è più quell'elite culturale che ci governa giustamente chiunque può diventare parlamentare e va benissimo però il concetto deve essere che dovrebbero essere i migliori non chi non sa assolutamente come ammazzare il tempo e mi butto in politica e poi dopo vado a prendere decisioni per tutti perché adesso sottosegretario la cultura se non sbaglio che ha fatto la citazione di Dante di Topolino cioè nel senso adesso non ricordo se fosse la cultura o non so a che altro a che altro ministero insomma però cioè rendiamoci conto nell'Ottocento queste cose qui difficilmente succedevano insomma lo dico così ecco ecco MM 9008 secondo me è molto sbagliato cioè l'essere ma l'essere espressione cioè non è che ci si può cioè è giusto essere espressione della volontà del popolo ci mancherebbe ma le scelte che devono prendere loro devono andare incontro al popolo ma non cioè non possiamo non eleggere quelli che fra noi sono i più preparati perché è quello il concetto cioè se noi andiamo a vedere i politici degli anni 50 60 70 erano veramente i politici più preparati e se andate cioè se uno va a vedere quello che dicevano queste persone non ha paragone con quello che viene detto oggi ecco vabbè Giuseppe Baglioni mi dice ho 58 anni e ricordo i politici della prima repubblica con tutti i difetti che avevano erano a un livello che quelli di adesso sono dei cretini spiace dirlo Giuseppe ma io non mi viene non mi viene da dire guarda hai completamente ragione ma davvero cioè vai a vedere poi c'era sempre l'imbucato c'era sempre però davvero il livello che c'è oggi e mi ricordo ancora i primi cioè le prime riunioni dei parlamentari dei Movimenti 5 Stelle alla prima legislatura che furono eletti quindi 2000 e lo ricordo quando quella precedente 2013 forse cioè c'era un ragazzo cioè loro hanno fatto le lezioni per capire di che cosa stessero parlando cioè si trovavano a fare scuola per capire di che cosa stessero parlando cioè che va benissimo far scuola ma veramente erano non so c'era veramente della gente che non c'entrava nulla col Parlamento Italiano signori queste non sono persone che possono decidere per me cioè io non elego una persona cioè io elego una persona che deve decidere per me ma deve avere la competenza per decidere per me cioè non posso essere una persona non posso non posso leggere una persona che abbia tutti i miei stessi difetti capito cioè dovrà essere un po' più elevata ecco a livello culturale a livello storico a livello di competenze nel suo specifico ambito poi non è che tutti possano essere tuttologi e io sono il primo a non esserlo però avere delle competenze specifiche in certi campi non che ci vada uno che non sa glamazzare il tempo ecco Andreotti Andreotti era un'altra pasta ecco poi tra i padri costituenti insomma Dave Ball cosa ne pensi del passaporto digitale per attestare l'immunità da covid secondo me è una cosa molto sensata penso che sia una cosa molto sensata perché in questo modo qui stimoli la vaccinazione io non vedo l'ora di riuscire a farlo peraltro ho scoperto che devo andarmi a mettere in lista d'attesa e domani lo farò subito quindi vado a chiedere al medico per andarmi a mettere in lista d'attesa per il vaccino e peraltro non sono neanche molto indietro perché soffro di una malattia quindi credo che potrei riuscire a essere abbastanza veloce però il ragionamento è che sì perché no cioè così se uno è immune se uno è immune da covid che giri che vada che problema c'è cioè perché uno deve pensare che se non è immune cioè è bellissimo ecco secondo me che ci siano tante persone immuni che possano svolgere una vita normale quello che vorrei spingere il governo è dire immunizzaci il più velocemente possibile di tutti ecco se vogliamo avere dei politici preparati dobbiamo lasciare che governarci siano i tedeschi che sono persone serie non come noi ma guarda no nel senso io non ci voglio credere nel senso che secondo me l'Italia può tranquillamente esprimere una politica di alto livello ci sono persone in Italia che sono di altissimo livello intellettuali economisti mi viene da pensare Draghi stesso cioè io adesso ho fatto tutto questo discorso polemico consigliatemi la parola ma cioè Draghi è una persona ultra competente l'avrei visto benissimo al ministero dell'economia per dire cioè è una più competente di lui chi c'è ecco cioè avere un 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 ex presidente della BCE con l'esperienza internazionale che ha lui cioè è certamente un vantaggio per il governo italiano questo non vuol dire che io non ne possa contestare alcune scelte ecco però è un privilegio avere un ministro così avere scusate un primo ministro così mi sarebbe piaciuto ribadisco di più al ministero dell'economia quello che poi dopo però bisogna andare a vedere è tutti i parlamentari di che estrazione sono insomma mi sembra che non abbiamo la creme della Kremlin in Parlamento ecco esatto bravo io penso che se uno riesce a fare come primo lavoro il ministro del lavoro deve essere molto in gamba o no ovviamente scherzo ma sì guarda cioè ci sono persone ma adesso se non vado errando per dire Salvini per primo Di Maio cioè quindi proprio le figure più apicali del Parlamento perché dopo c'è tutto il sottobosco ma loro che penso che come primo lavoro cioè tutti e due abbiano stipendi da politici adesso forse Di Maio aveva qualcosa con delle insomma delle attività improprio con la sua famiglia adesso non mi entro nel merito perché questo l'ho studiato mi sembra molto gossip però a vedere che ci sono persone che hanno soltanto avuto stipendi nella vita sempre solo da politico e poi dopo hanno certe come dire certe uscite mi viene da pensare che forse un motivo c'è ecco questo però mi chiudo qui per esempio per esempio il sindaco di Ravenna che anche lui è un politico di professione solo politico di professione mi sembra però che abbia più un senso cioè mi sembra che sia un po' più adatto a fare il politico di professione ecco con tutti i difetti e i pregi della cosa però mi sembra più adatto essere un amministratore pubblico loro mi sembra veramente che nel loro caso aver avuto soltanto stipendi da politici un po' sia limitante insomma bene Dave Ball il governo decide chi vaccinare se io vengo vaccinato fra nove mesi non posso circolare Giacomo Di Nardo sì però Draghi non può bastare se si circonda di incompetenti come la Gelmini Di Maio Fortuna Carfagna per non parlare di Bergonzoni del leghista che ha citato Topolino o Salvini stesso è circondato dalla politica che lo Stato offre tanti ministeri inutile dirlo sono assolutamente fonte di polemica quello che mi ha un po' stupito ribadisco è stata la scelta numero uno del governo Draghi importante ovvero chiudere lo sci scelta due zona arancione scuro chiudere le scuole senza chiudere il lavoro chiudere la adesso poi peraltro zona arancione scuro sono andato a leggermi i diktat cioè le regole negozi possono stare aperti però si può uscire di casa soltanto per comprovate esigenze o necessità quindi cioè ok quindi la mia comprovata esigenza o necessità è vado in un negozio e acquisto un prodotto e torno a casa ok non posso fare una passeggiata ma scusa se sono andato dentro un negozio e non posso cioè qual è la differenza cioè qui insomma non so come dire le regole mi sembra che c'è troppa confusione davvero troppe zone troppe si è veramente fatto un dedalo inistricabile che qui mi sembra che è ora che qualche voce autorevole non certo la mia ma dovrebbero esserci un po' di voci autorevoli che iniziano a dire così non stiamo andando bene non è il non è la via giusta che abbiamo intraprede che abbiamo imboccato insomma ecco la penso così Rosario Finocchiario Finocchiaro scusa la scelta dei ministri si è basata sull'intesa parlamentare purtroppo con Conte abbiamo visto che serve avere la maggioranza guarda io sui ministri non discuto nel senso che cioè sì il ministro va bene sono alcuni sono dei nomi triti ritriti alla centesima le gis mancava poi solo casini ecco che in Parlamento dal 82 mi sembra dal 78 mancava solo casini il ministro che ne so dell'interno era a posto cioè questo qui è un rimischione sto governo che fa schifo lo dico chiaro e tondo è un rimischione che fa schifo ed è evidente cioè avere Lega PD Movimento 5 Stelle tutti insieme Forza Italia cioè tutti insieme partiti che mai cioè ma noi ci ricordiamo Silvio Berlusconi che dava dei comunisti a quelli dell'Ulivo cioè ma ricordiamocene queste cose che adesso sono al governo insieme cioè è incredibile come è una cosa che fa caponare la pelle però anche solo uno che ha 40 anni come me cioè chi si ricorda il Berlusconi del 94 vedere lì adesso il governo Forza Italia con il PD che lascia stare di qualsiasi politico uno possa partito politico possa essere ma è ridicolo è ridicolo e questo non ha detto nessuno cioè non sembra veramente che sia tutto legittimo ma un minimo di morale uno dovrebbe anche un po' mantenerla ecco insomma vabbè comunque detto ciò ho finito lo sfogo spero che ricorderemo Andrea 7 mi dice giù una domanda giusta era necessario in questo momento far cadere il governo guarda ti dico la verità secondo me per come ho visto io le cose oggi cioè noi pensiamo io quando sono andato a votare diciamo che ho scelto un partito anziché un altro ok bene ho scelto un partito prendiamo un partito che io non ho votato il Movimento 5 Stelle cioè io voto il Movimento 5 Stelle perché penso che sia diverso dagli altri ok se il Movimento 5 Stelle diventa il cardine di un governo scusami di tre legislature governo Conte 1 governo Conte 2 governo Draghi il cardine fondante di tre legislature che sono state prima con la Lega poi col PD poi con Lega PD Forza Italia cioè io elettore del Movimento 5 Stelle perché ho votato quel movimento lì anziché Lega Forza Italia PD o chi per loro cioè non ha più il voto in Italia così non ha senso votare cioè tu mi dici che differenza c'è allora magari poteva anche non cadere il governo non sarebbe stato un danno ma banalmente non è caduto e lo sanno assolutamente tutti perché dalla prossima legislatura ci saranno mi sembra 300-400 parlamentari in meno questo è infatti io non avevo nessun dubbio che si riformasse un governo perché è chiaro che chi è il pazzo che si va a perdere tutti i privilegi di altri un anno e mezzo di legislatura non ricordo se il vitalizio non voglio dire una sciocchezza non ricordo se il vitalizio c'è dopo una legislatura completa ma chi è il pazzo che va alle urne quando sai che alla tornata seguente ne seccano 300 è chiaro che non ci vai era necessario votare non lo so se era necessario sarebbe bello pensare che il voto in Italia abbia ancora un qualche tipo di significato mi sembra che con questi partiti politici il voto non abbia più alcun significato io se dovesse andare a votare domani non avrei idea di che partito votare non avrei idea perché ma che partito voti che tanto sono tutti il governo hanno dimostrato di essere capaci tutti quanti di mettersi d'accordo per non perdere i privilegi che senso ha andare a votare ecco detto questo su questo ragionamento qui non lo so ma perché no perché non devi andare a votare perché devi mantenere il governo a tutti i costi se questo governo qui deve diventare soltanto un minestrone di tutti i partiti perché arrivino alla fine dei cinque anni di mandato insomma Andrea mi sembra cioè la questione è complessa ecco tele-knowledge bisognerebbe fare una riforma elettorale in modo che tale che non ci siano per necessità di avere una maggioranza due partiti al governo ma solo uno che verrà giudicato per il suo operato e sì una cosa sì cioè avere due partiti grossi tipo in America ecco il dualismo ma sì scusa mi sono confuso con i termini e la legislatura è unica hai ragione la legislatura è unica e i governi sono diversi hai ragione comunque in ogni caso hai capito i governi diversi insomma Dazon Explorer quel governo sicuramente non poggiava su basi solidissime ma in una situazione di tale criticità una caduta di governo non può far altro che destabilizzare il tutto ok sono d'accordo ma il governo è caduto cioè non è che è andato avanti lo stesso governo il governo è caduto è stato fatto un altro semplicemente con gli stessi partiti ecco è vero Massimo sulla legge elettorale sono molto d'accordo sono molto d'accordo con te vabbè è così ragazzi quindi io Berenice vincono i politici peggiori o populisti perché molti italiani non vanno più a votare poi ci lamentiamo di chi è eletto inoltre il tasso di analfabetismo funzionale in Italia è altissimo Davide tutti al governo no uno è rimasto fuori se non sbaglio quello della Meloni giusto Davide correggimi se sbaglio non ricordo mi sembra che fosse mi sembra che fosse il partito della Meloni vabbè comunque insomma allora bene io vi ho detto adesso in realtà la questione io vi chiedo questo nei commenti perché sono curioso in realtà è una questione questa qui molto molto ho voluto fare l'introduzione con Mussolini ho voluto fare l'introduzione con Mussolini proprio per ricordarci che tipo di persona è stata Mussolini e quanto effettivamente oggi abbiamo poca memoria di quell'uomo che fu ci rimane solo la sua icona io ho fatto questa introduzione per andare a parlare invece della delle cose odierne di un momento che non sarà ricordato certamente come il ventennio fascista però è un momento in cui si è governati a suon di decreti ed è un anno che si va avanti a suon di decreti già con due governi se non ricordo male esatto due governi perché il governo Conte 1 era un altro ci hanno governato a suon di decreti ci hanno limitato molto nella nostra libertà non so a discutere sul fatto che sia giusto o sbagliato ma come ci ricorderemo noi questo governo questi anni avremo memoria corretta di quello che è stato oppure ci rimarrà soltanto il come dire il mito di questi anni qui che poi dopo probabilmente non voglio essere un pessimista ma la crisi economica che ci attende è molto grande come ce la ricorderemo questo periodo qui come ce lo ricorderemo come sarà ecco è una questione che mi è presa ecco mentre oggi ascoltavo ecco oggi ascoltavo un altro tema molto molto sentito in Italia che è la questione del brigantaggio la questione del nord contro il sud della guerra di conquista del nord nei confronti del sud una questione molto complessa che non sto adesso neanche ad accennare forse prima o poi ne parleremo ma ne voglio parlare con persone che sono più esperte di me perché non sono ho letto troppo poco riguardo questa questione qui e però anche lì vedete anche lì è una questione di memoria contro la storia come ce lo ricorderemo io sono curioso di sapere voi cosa ne pensate come ce lo ricorderemo questo periodo di pandemia che cos'è che ci rimarranno di questi anni 20 diceva Raf cosa resterà di questi anni 80 che sono stati anni eccezionali ecco per l'Italia sono stati anni veramente eccezionali da parte le stragi in realtà i delitti di mafia ma sono stati anni di grande libertà di grande crescita economica poi a suon di debito pubblico ecco però sono stati io credo anni di grande libertà se posso se posso vederla in questo modo un pochino un minimo me lo ricordo e poi comunque mi ricordo molto bene lo strascico degli anni 90 cosa resterà di questi anni 20 di questa epidemia è una bella domanda cioè come ci rimarrà nella memoria secondo me è una bella domanda mi piacerebbe vedere tante opinioni diverse insomma sempre se saremo tutti vivi dice le 533 bene rosario finocchiaro dice scoprirà una bomba economica senza uguale e poveri nipoti e promipoti allora dunque chiudo con la chiudo con la risposta a Pedro Italia e poi dopo però mi raccomando nei commenti alla live scrivetemi che cosa cosa ne pensate secondo te se ci fosse ancora Mussolini come sarebbe l'Italia che è una questione ucronistica sarebbe un'Italia sotto una dittatura e sarebbe un paese dove io non vorrei vivere finita la domanda finita la cosa leggo Isabella che dice ce lo ricorderemo in maniera contorta penseremo a dei governi incapaci ma non considereremo le difficoltà economiche e sociali della pandemia è un'ipotesi però sono curioso di vederne tante altre perché io ho un po' una mia in testa e ve la suggerisco dai ve la do ve la butto lì credo che questa come ha detto ieri la presidente forse della commissione europea se non ricordo male ma forse sto sbagliando non voglio citare un topolino perdante ieri ha detto che questa situazione di pandemie sarà una costante nel corso dei prossimi anni non sarà una non sarà una una questione un evento estemporaneo sarà una costante e io ho la sensazione che abbia molto ragione non per una questione complottista ma per una questione di circolazione di beni merci persone e cioè noi nel 1900 eravamo 2 miliardi su questo pianeta oggi siamo 8 miliardi siamo 4 volte tanto lo spazio è lo stesso viviamo in città affollatissime non siamo assolutamente equamente distribuiti nel territorio abbiamo preso la maggior parte delle risorse al mondo naturale animale e le stiamo sfruttando a nostro vantaggio vantaggio che adesso si sta ritorcendo contro di noi io le parole di questa rappresentante dell'istituzione europea le prenderei molto sul serio non vorrei fosse davvero l'inizio di una serie di pandemie che ci costringerà a cambiare radicalmente il nostro stile di vita spero veramente di sbagliare un po' è l'opinione che mi sono fatto lato governo non so più che pensare se non ho un ricordo negativo dell'inizio del governo della gestione iniziale del governo Conte nel senso che penso fossero scelte impopolari ma assolutamente inevitabili di questi ultimi di queste ultime vicissitudini di queste ultime scelte non posso proprio essere d'accordo quindi non sono d'accordo con le decisioni del governo detto questo spero che non me lo io spero davvero di ricordarmelo in modo positivo ecco ne leggo gli ultimi commenti di sicuro ci attende una grande crisi l'aspetto positivo è che nella storia dopo la crisi c'è sempre una rinascita quindi rinascimento no questo è proprio un falso storico scusa se te lo dico in questo modo ma il rinascimento non è un momento cioè non viene dopo un momento di crisi il medioevo è stato è stato proprio il rinascimento viene alla fine di un periodo eccezionale che è stato il medioevo con assolutamente grandissime innovazioni tecnologiche artistiche eccetera 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 comunque l'aspetto negativo è che non sappiamo quanto dura la crisi mi viene da pensare come in periodo di crisi mi viene da pensare molto di più al discorso della fine della seconda guerra mondiale ecco Dazon Explorer porterai mai un video riguardante il sovrastruttamento delle risorse da quel che so siamo arrivati al punto di raccogliere più di quanto si produce no no certo si raccoglie già no no molto di più noi a livello energetico mi sembra che la giornata della terra ogni anno si sposti noi consumiamo le risorse che la terra produce in un anno quest'anno siamo arrivati ad agosto se non ricordo male cioè noi alla fine di agosto abbiamo consumato le risorse che la terra ha prodotto durante tutto l'anno quindi siamo sempre in negativo il bilancio è sempre in negativo negli ultimi anni quindi sì assolutamente sì guarda volevo portare un video ho scritto un articolo diversi anni fa su uno studio accademico sul fatto che l'uomo sia la causa della sesta estinzione di massa quell'articolo lì potrei iniziare a pensare di portarlo sì Cristina il mio pensiero per nulla positivo è che se fosse arrivato qualcosa di anche solo poco più grave rispetto al coronavirus a questo saremmo tutti spacciati e non siamo proprio pronti per queste cose bene bene allora grazie a tutti per essere stati con me vi ringrazio fatemi sapere appunto nei commenti che cosa ne pensate di anche quello che ho detto sono detto un sacco di bagianate perché c'è caso sono tutte idee che poi dopo mi vengono da pensare qui alla casa vanilla ma ecco mi confronto effettivamente poco o poche occasioni per confrontarmi e via fatemi sapere cosa ne pensate cosa ne pensate della pandemia come ce la ricorderemo vi ringrazio per essere stati con me vi auguro a tutti buonanotte grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.